Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati. Quello che il governo voleva nasconderci. Dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta.